ingredienti dosi per quattro persone 4 cosce di coniglio olio burro aglio cipolla carota sedano farina mezzo bicchiere di marsala sale pepe e brodo preparazione rosolare il coniglio in olio e burro unire il di aglio cipolla carota e sedano spolverizzare con un cucchiaino di farina spruzzare il marsala e far evaporare salare pepare bagnare con un bicchiere di brodo e cuocere per un'ora unire se necessario altro brodo servire con il fondo di cottura frullato il piatto è pronto buon appetito